Cristo santo... Dottore! Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. No! Schifoso animale! Cari, chiudi il becco! Forza piccolata! Ti tengo! Ti tengo! Umberta! Torna indietro! La porta verso il pediatria, venite qua! Umberta! Seguo in giù! Ti porto via da qui, piccola. Ti ho preso. Ti ho preso. Andiamo. Oddio, la porta che parte. È tutto ok? 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 Ho detto indietro! Fermo! Non puoi salvarla. Anche se la porti via e poi... Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ascolt. Puoi ancora fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Ascolt. 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 Sì. Guarda laggiù. Ce siamo quasi. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Dammi la mano. Ok, andiamo. Aspetta. La Boston, quando mi hanno morsa, e non ero sola, c'era anche la mia migliore amica, ed è stata morsa anche lei. E non sapevamo cosa fare. E allora, lei ha detto, aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. E lì? Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. Qualunque cosa accada. Continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, però... Giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Ok. Giurami che tutto ciò che mi hai raccontato sulle luci è vero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.